E' stato durante un incontro tra amministratori della giunta termine e l'assessore regionale delle attività produttive Edi Tamayo che si è parlato dell'intendimento del comune di Sciacca di accedere all'elenco delle zone economiche speciali. Sciacca attualmente è esclusa dalle zone economiche speciali a differenza di tanti altri comuni. E' una grandissima opportunità perché proprio in questo momento la regione Sicilia sta riperimetrando le aree quindi sta dando l'opportunità, con un bando che uscirà nei prossimi mesi ai comuni che sono fuori di entrare in queste zone economiche speciali. Questo significa che qualunque iniziativa imprenditoriale nasce sul territorio o quella di assistenti in base all'area che verrà individuata avrà degli sgravi contributivi importanti sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista degli oneri legati al lavoro. Quindi una specie di zona franca? Esatto, una specie di zona franca. Naturalmente serve ad adattare investimenti importanti sul territorio e serve appunto a rilanciare lo sviluppo economico di un territorio. E in quali settori merceologici, imprenditoriali, commerciali? In base alla programmazione della regione Sicilia i settori sarebbero i settori industriali e artigianali quindi questi due settori però naturalmente è un modo per rilanciare l'economia anche perché legati alle ZES, le zone economiche speciali c'è anche dei fondi del PNRR che sono dirottati verso la viabilità quindi non solo noi potremmo accedere alle zone economiche speciali ma con questi fondi potremmo anche migliorare di tantissimo la viabilità quindi è sicuramente qualcosa di importante tra l'altro Sciacca, a differenza di altri comuni, è anche favorita perché ha anche un porto che potenzialmente potrebbe anche diventare un porto commerciale quindi stiamo lavorando noi abbiamo fatto un incontro con il professore Carlamenta che è commissario straordinario del ZES della Sicilia occidentale e ieri abbiamo fatto un incontro con Editha Maio quindi c'è la volontà di fare un nuovo bando da parte della regione e sicuramente Sciacca si farà trovare preparata infatti gli uffici da domedì saranno al lavoro per preparare tutta la documentazione e la zona in particolare quella sarebbe quella di Santa Maria che era la vecchia zona industriale? da questo punto di vista ora ci dobbiamo confrontare con l'agenzia di coesione e infatti nelle prossime settimane verranno gli ingegneri dell'agenzia di coesione qui a Sciacca ci confronteremo con loro e cercheremo anche di capire l'ampiezza dell'area e anche qual è l'area indicata naturalmente l'area di Santa Maria sarebbe un'area indicata però naturalmente aspettiamo di confrontarci anche urbanisticamente sarebbe un'area indicata esatto sì perché è già un'area industriale tra l'altro è un'area dove ci sono anche tanti terreni comunali le zone asi che storicamente sono sempre in vendita ma non se ne prende nessuno in questo modo potrebbero diventare appetibili e sicuramente potremmo portare imprese che sul territorio porterebbero sviluppo economico e lavoro ma c'è una preferenza per imprese che magari hanno negoziato qualche finanziamento pubblico? no da questo punto di vista no non c'è una preferenza c'è un piano regionale e poi la regione in base naturalmente alle richieste che arrivano perché sarà tutto gestito da agenzie di coesione le disluge nei vari territori Sciacca è molto appetibile grazie alla presenza del porto altri temi dell'incontro con Tamaio sono stati la programmazione dei bandi di finanziamento in relazione agli enti locali all'impresa privata che all'assessorato è in programma di emettere il comune di Sciacca punta infine ad ospitare uno sportello di staccato della Camera di Commercio sì diciamo che c'è stata la disponibilità dell'assessore Tamaio che ci ha ricevuti a me al vice sindaco e all'assessore Agnese Sinaga ieri e abbiamo anche parlato di questo Sciacca potrebbe diventare sedi distaccati dalla Camera di Commercio naturalmente il comune deve mettere a disposizione dei locali che in un modo o nell'altro troviamo ma sicuramente questo alleverebbe tantissime problematiche legate al fatto che la sezione di Camera di Commercio è più vicina ad Agrigento e sappiamo benissimo la viabilità tra Sciacca e Agrigento che condizioni è quindi diciamo lavoriamo su più fronti e credo che questa amministrazione già il dialogo che c'è con i divertimenti con gli assessori regionali con tutti gli attrienti è di fondamentale importanza perché questo confronto continuo porta sicuramente dei risultati politicamente non si può sottacere il fatto che come colore politico voi e la regione siciliana siete di colori politici diversi questo sì però avete trovato sì no anche perché io credo che quando si propongono iniziative legate allo sviluppo del territorio legate al rilancio di un territorio credo che non c'è colore politico che tenga legato 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 Grazie.